Musica Saranno consultati i registri dell'ente fraternita dei laici per risalire all'identità delle nove mummie datate tardo rinascimento ritrovate vent'anni fa nel sottosagrato della Basilica di San Francesco ad Arezzo e scomparse poi nel nulla. In un primo momento era stato ipotizzato che le mummie fossero state nuovamente inumate poiché potrebbero invece essersi trovate in un deposito ad Arezzo. Sull'identità rimasta sconosciuta, gli studi quando furono rinvenute si erano concentrati in particolare su una delle nove mummie. L'abbigliamento elegante e di particolari avevano infatti fatto pensare alla moglie dell'artista retino Giorgio Vasari o a una bacci, famiglia che aveva commissionato la leggenda della vera croce a Piero della Francesca. Ora cercherà di far chiarezza la fraternita dei laici che dal 400 dispone dei registri dei morti. Pierluigi Rossi, primo rettore della fraternita, da lunedì mattina assieme alla dottoressa Alessandra Baroni ha iniziato a consultare i registri di morte che sono conservati nel palazzo della fraternita. Partendo da questa domanda a Spiegarossi, ho deciso di mettermi al lavoro insieme alla dottoressa Alessandra Baroni. Guarderemo chi erano le nuove persone sepolte a San Francesco. Guarderemo chi erano le nuove persone sepolte a San Francesco. Guarderemo chi erano le nuove persone sepolte a San Francesco. Grazie a tutti